Nel 2005, poco dopo il mixtape più diciamo più bello della storia dell'hip hop italiana secondo me, che PMC vs. Cardolo, secondo me è il più bello di tutti, ma poi non si è mai più fatto una cosa del genere, infatti non lo faremo mai più, ma lo sapevamo già quando l'abbiamo fatto, sapevamo già che era una cosa che rimarrà nella storia e poco dopo io ero un ragazzo molto vivace, dire vivace è un eufemismo, quindi è capitato che sono stato dissenuto per un po' di tempo quindi 2005 fine 2008, un periodo di tempo che è lungo, l'età di un bambino che va all'asilo, dalla nascita all'asilo per dire, lo giuro sempre così, e fu un'esperienza che, uno dice, galera, tutto schifo, tutto, sì, lo è, cioè, fai anche stato in Germania, poi, quindi un'altra esperienza nuova, quindi devi imparare un'altra vita, ho dovuto fare tutto da zero, e quindi sì, ho dovuto far tutto da zero, e niente, cosa mi viene in mente, che praticamente appena sono entrato io, sembra che le case discografiche avessero preso uno schiaffo, e hanno iniziato a dare contratti, e tutti proprio, e io non ero nella lista, cioè io il contratto me lo prendevo in Mazzini Maghreb, io l'altro, Royal Medi, ti voglio bene frate, eravamo lì lì, solo che abbiamo già avuto una proposta prima, solo che io non c'ero, non c'ero, e mi stavo formando per diventare uomo, io così la chiamo la cosa, perché, cioè, quel periodo lì, tre anni, diciamo che mi hanno aiutato ad essere, cioè, a fare un'altra metamorfosi, capito, 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 tu hai visto anche lì, hai avuto la forza di vedere i bicchieri comunque in Mazzucchieno, capisco quello che vuoi dire, cioè, trovare le cose positive dentro anche la merda, in esperienza super negativa.